Il mio primo obiettivo è rimanere al Pescara, giocare e fare il meglio possibile per questa squadra, per cercare di mantenere la categoria. Se poi dovessero decidere anche di riscattarmi, allora rimarrò qui molto volentieri. Torreira non l'ho mai visto giocare, ma io sono un calciatore dinamico di grande intensità e il mio compito sarà dimostrare le mie caratteristiche qui a Pescara. Verratti? Certo che lo conosco, l'ho visto giocare in Italia prima e poi nel Paris Saint Germain. È un calciatore di livello internazionale, io farò di tutto per cercare di avvicinarmi a quello che ha fatto lui finora, nella sua carriera. Non conosco molto la Serie A, ma so che è un campionato difficile, di grande difficoltà, così come tutti i grandi campionati europei. Io spero di potermi adattare velocemente ai ritmi che ci sono qui in Italia.